Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Sei d'accordo Lucio Caracciolo con questa analisi e sbaglia chi pensa che questo monito di Mattarella sia stato rivolto soprattutto alla classe politica, alla classe politica più della destra, della sinistra? Come dobbiamo interpretare? Forse anche la classe mediatica. Anche la classe mediatica, quindi anche noi giornalisti. Comunque no, la mia impressione, sono d'accordo con Luca, è che il Presidente si renda conto che stiamo veramente per entrare in un tunnel, non solo noi, tutta l'Europa lasciamo stare il resto del mondo che è sufficientemente caotico. Insomma la Germania è entrata in recessione, siamo ancora in pieno guerra e non si riesce a capire quando finirà. Ci sono troppi punti interrogativi e soprattutto un'inflazione che secondo me è superiore a quella che ci viene comunicata. Italo Bocchino, stiamo entrando...